L'iniziativa gioca con noi già proposta con successo lo scorso anno con l'adesione di più di 100 bambini. È in programma venerdì prossimo 23 maggio con inizio alle ore 16 sul campo sintetico del Farhoff in via Maso della Pieve. Si giocherà a calcio sotto l'occhio vigile degli allenatori del vivaio del Suttirol ma ci si divertirà tanto anche col parco giochi che sarà allestito dalla Fifth Toys nel piazzale antistante il campo da gioco. Insomma appuntamento imperdibile anche perché divertentissimo grazie appunto al contributo della Fifth Toys azienda leader in alto adige nel settore dei giocattoli che per l'occasione organizzerà numerosi giochi all'aria aperta andando come già detto da allestire un vero e proprio parco dei divertimenti nei pressi del campo da gioco. Tutti gli allenatori e gli istruttori della scuola calcio della FC Suttirol si metteranno a disposizione dei piccoli partecipanti organizzando per loro simpatici giochi col pallone prove di abilità e avvicenti partite. Il tutto con l'unico scopo di far scoprire ai bambini il gioco del calcio nonché la grande famiglia dell'FC Suttirol. Un'azione simpatia alla quale presenzieranno e parteciperanno attivamente anche alcuni calciatori della prima squadra biancorossa. Insomma venerdì prossimo dalle 16 alle 18 bambini e ragazzi sono attesi da due ore all'insegna del divertimento. Per iscriversi basta mandare una semplice mail all'indirizzo info-fc-edetirol.com indicando nome, cognome e data di nascita.